Poi sappiamo bene che i meccanismi con cui si vedono a seconda di quello che noi cerchiamo fanno vedere nella prima e nella seconda pagina quello che in linea con quello che tu hai cercato, con l'idea che sta desunta anche dal tipo di tua ricerca. Quindi con una possibile interferenza, ma ancora con l'angiotologia, lo studio dell'ignoranza causata dalla massa di informazioni scientificamente scorrette, che però col sistema dell'algoritmo che ti porta a vedere esattamente quello che tu hai cercato, capendo quello che pensi e addirittura seguite presso, evidentemente crea un buon sformandante alla formazione del consenso su quello o quell'altro rapporto, su quello o quell'altro tema e quindi crea un tema complessivo di tenuta democratica almeno diciamo, come eravamo noi abituati a pensare, la formazione delle quali essi fossero, ma senza che scomparissero le altre, c'era la platea di argomenti di tempi possibili sui quali ci si faceva un'idea, non bombardare di vedere sempre la stessa idea moltiplicata n volte. E come controllare, io sentivo l'ultimo intervento, dovremmo creare un algoritmo in grado di controllare il pubblico tra virgoletto, in questo caso in grado di capire il funzionamento degli altri algoritmi, perché non c'è tutto che uno detenga, siamo totalmente all'oscuro di come funziona, perché e di quello che succede nei server sparsi per il mondo. certo, questo è il vecchio problema, no? Chi giunca ai giudici, perché anche l'algoritmo sopra potrebbe anche essere da solo di quanto non compreso esattamente i suoi funzionamenti, essere fonte esso stesso o di uno strutturato bene, non indicato bene, fonte di ulteriori distorsioni. Comunque sia, non c'è tutto che l'intervento degli altri meccanisti, attraverso i quali altri funzionamenti, il funzionamento della storia, non ti dico che ci sia del tutto chiaro, ma non così oscuro come adesso. Oggettivamente il giro, la funzione dei dati e del loro poi il sviluppo consente tutta una serie di benefici, diciamo, c'è la verità dei consumatori la possibilità di accedere a tutta una serie di servizi che prima erano ignori, di fornire offerte migliori. Quindi, diciamo, apparentemente la questione dovrebbe essere neutra, se non fosse che poi l'utilizzo degli stessi da parte delle imprese che li detengono, possono creare distorsioni più importanti. Secondo me il rapporto con la fraia sia abbastanza chiaro e netto. Cioè, io so che spesso quando usiamo tutte le varie proprietà che ci non mi hanno avanti, non dà un problema, aspetta, ma sono io, sei tu, non sono più. Qua, secondo me, la questione è molto semplice. La fraia si è evidentissimo quali sono i compi che è bene che tutela. L'antità, parlando in questo caso per un momento di tutela il consumatore, non è che la mera violazione del codice della fraia si va a identificare una fraia che c'è sulla quale potete intervenire, quello è un profilo della fraia che è bene per tutti lì, che ha un, come dire, profili di fondo che sono chiari e che è vero. Però che è una violazione del diritto della fraia, assolutamente, ad altri comportamenti di analizzare l'avventare in modo scorretto, o almeno non del tutto non sapevole, la scelta del consumatore, può essere un elemento attraverso la definizione di radio come già scorretto. Si citava WhatsApp. WhatsApp ha fatto una cosa che, oggettivamente, al di là del discorso di chimica, nevolezza, tra l'altro si traduceva anche in un'aggressività della pratica, perché quando tu fai credere diversamente da quello che sei necessario, veramente costretto a dare il tuo consenso a una certa cosa, perché se no non potrai utilizzare quel servizio, non è vero, qui c'erano tutti gli estremi dell'indegno di condizionamento, abbiamo in corso il caso Facebook, che si è girato da poco, e ancora una volta non è in sé il discorso che non hai dato il consenso secondo le regole della paragrasi, perché ovvero così fosse, non sarebbe una storia da un'altra parte, non sarebbe intervenuto. E tu non hai fornito tutte le indicazioni necessarie a fine di poter decidere se fare una terminata scelta, perché non ho mai detto di questi benedetti dati esattamente che cosa ne avresti fatto, e soprattutto lo so perciare gli stessi se mai dovesse finire con un provvedimento, certamente non lo so, lo sapremo tra qualche giorno. però insomma voglio dire che sono ambiti che sul sedio c'è una complementarietà delle indicazioni, che secondo me ben lette e ben inquadrate non hanno ancora neanche il rischio di sovrapporsi, ognuno ha un suo ambito di riferimento preciso e devono concorrere entrambe nello stesso senso. Anche perché, e qua infatti l'importanza dell'indagine con c'è un punto, cioè i consumatori, abbiamo scoperto che più o meno nel 90% dei casi le informative, cioè noi abbiamo sulle varie app per sapere che cosa si può fare, eccetera, allora il 54% non le legge, il 33% le legge sono mai aventi. Io non mi sento neanche di criticarli, perché voi avete mai letto quando dite l'occhiera, quando dice un po' di salto e sottoposto a questo, avete detto? No, una grandina di schermate, spaventose piccolissime, nelle quali possibili che ritrova un bel altro, tutta una serie di clausole che al di là del profilo pratico commerciale, qua l'altro strumento che ha utilizzato, quello delle clausole vessatorie, perché nessuno sa che cosa c'è scritto là dentro. L'altro dato che questi dati mi hanno un po' inquietato è questo inquietato. Ciao, bisogna prenderne atto. Circa di la metà delle persone intervistate ha detto che va bene, anche se li utilizzano per profilarmi, io basta, sono contento purché posso avere questo dato, questo servizio gratis. Allora, premesso che ognuno è vinto di fare l'intervento, ciò lo vuole, però dovrebbe essere almeno consapevole che cosa si fa di quell'altro po'. E quindi dovrebbe sapere che il gratis non è, perché qui sta dando, chi proprio sta concedendo al diritto di utilizzare i dati del profilato di utilizzare i fini commerciali, vendermi, e quindi sta pagando con moneta suonante. Poi può anche non interessare, però se non interessa, questo ha a che fare con il tema che diceva all'inizio, cioè la necessità di creare un contesto culturale tale da poter, come dire, far girare l'idea che oggi sono i dati ai fini commerciali, domani non è che c'è del tutto chiaro se ci si limiterà solo ai fini commerciali o si andrà oltre. E allora questo ha a che fare esattamente con quella che diceva che uno del posto del diritto adesso non dobbiamo mettere utile a salvaguardare e che in questo momento è abbastanza arriscato. Ci potrebbero essere anche momenti di intervento sotto il profilo strettamente del diritto antiderastico. Questo è un po' più complicato. Questo è un po' più complicato perché abbiamo un problema, un problema, diciamo un tema che poi ci stiamo interrogando da un po', che è quello della definizione del mercato rilevante, che non può seguire probabilmente le regole che segue negli ambiti settori economici e tradizionali, deve tenere conto del ruolo e dell'unione modernità quali pure la maniera digitale che si sta conformando. ovviamente impatta tutto il profilo geografico, una tradizionale del mercato rilevante e da tuccio non escluso di certi anni che forse si può fare, identificatela come anche a quello del diritto nazionale. La Germania l'ha fatto a questo istruttore raccorsi contro Feis per accusi di posizione dominante, per profili molto connessi alla violazione del diritto l'avrai sempre poi letta in chiare anti-crust, per quattro anni c'è una vera questa cosa che prima o poi in margine finirà. E questa cosa che dico mi fa venire in mente un'altra osservazione in questo mercato, in questo ambiente particolarmente importante, quello della tempistica. Noi in questi mercati ormai cambiano, soprattutto quelli caratterizzati dell'evoluzione tecnologica cambiano da un giorno all'altro, tu rischi di fare un intervento sulla base di uno stato di fondo che in realtà è già cambiato. In questo la commissione europea è una cosa buona per l'Italia e l'Europa. Allora, il caso Intel che aveva a che fare con la commissione, è stato avviato dalla commissione europea nel 2007, si è chiuso in Europa con la sentenza della colpa di giustizia nel 2017, cioè quando ormai Intel praticamente non esisteva neanche più come meccanismo. Allora la tempistica di intervento in questi mercati è ancora più fondamentale di quanto lo sia comunque la efficacia e tempistica dell'azione amministrativa in genere, perché tu rischi ad arrivare a dare una soluzione a un problema che non esiste più, ovvero sia che è mutato, ovvero sia ancora peggio in cui il tuo intervento che all'epoca era aveva un senso, non ne ha più il rischio di fare danni. I tempi in questo della commissione europea, e qua faccio una piccola cosa, diciamo così, campanilista dell'autorità antitrust della commissione europea, qua le autorità antitrust sono avvisamente diverse. La parliamo in termini di superiore a quattro anni, poi la media è di poco superiore a un anno e anche qua fate dispendere una cosa in favore dell'Italia perché vuoi fare il Consiglio di Stato, complessivamente dall'avvio alla definizione di tutto il giudizio, sono passati tre anni e quindi l'intervento è stato effettivamente efficace. Gli altri posti, dieci, ho detto in te, ma ne potrei citare altri, dove sono passati 13, 14, 15 anni, quindi con l'intervento rischia di poter fare più danni di quelli dei benefici che porta. Io confido che ci sia da parte di tutti, anzi non so, un certo che ci sia da parte di tutti la consapevolezza che si sta giocando la partita probabilmente fondamentale nei prossimi anni e non so, però se non si interviene subito, se non si acquisiscono le conoscenze del caso subito, poi rischiamo di arrivare quando ormai la cosa andava veramente avanti che non era neanche più gestibile, neanche neanche comprensibile, si parlava di intervento umano o meno poi nel nostro oggetto, noi ci stiamo interrogando che iniziamo soli anche sulla possibilità di qualificare come intesa lecide dal punto di vista antitrust un'intesa che avvenga sui prezzi, per esempio, sono da base di algoritmi che interlocuiscono anche soltanto, come dire, non esplicitamente, non esplicitamente da di loro, cioè lezioni complessive. Io sono abbastanza convinto, fiducioso, che questo primo passo di questo indaggio di conoscenze che è finalizzato proprio a identificare quali sono le creatività sotto i vari settori privati, comunicazione, pluralismo e diritto antitrust, ovviamente inteso anche con il dato di direzione del consumatore, ecco l'interazione di tutti questi mondi e tutti i fatti insieme può e io spero fornirà non la soluzione del caso, tutt'altro, però quantomeno quella base di conoscenze iniziali che consentirà a tutti quanti interventi possibilmente dei cristiani per evitare che sia un problema. Vi ringrazio.